E poco fa parlavamo del convegno di criminologia che si è svolto a Roma. Un altro punto importante, toccato dai relatori, è stato il problema della collaborazione e della scelta dei periti scientifici nella fase istruttoria del processo. A questo proposito, Ivano Stapciuc ha sentito Marco Strano, direttore scientifico ICA. Il convegno di oggi segna una tappa importante per quanto riguarda la collaborazione fra PM e inquirenti nel reperimento delle prove. Sì, in questo convegno dell'Accademia Italiana delle Scienze Forensi è un po' il tentativo di fare un po' di chiarezza, anche di organizzare proprio il rapporto tra gli inquirenti e i periti, cioè coloro che hanno competenze di tipo scientifico e possono dare delle indicazioni per il reperimento proprio delle prove. Quindi questa è la funzione di questo incontro. Problema spinoso, se ne parla da molto tempo, soprattutto sulla competenza, per esempio, di molti periti che vengono chiamati e a volte non riescono a dare il contributo che si aspettava. Quindi da quello che esce fuori, anche dal convegno di oggi, ma anche l'esigenza di riuscire a certificare le competenze di questi periti. Ecco, come si inserisce la figura del criminologo proprio in questa fase? Ma diciamo che la funzione primaria del criminologo è altra, vale a dire che normalmente un criminologo non ha rapporti con i periti e neanche con i magistrati inquirenti, perché la funzione del criminologo è o di tipo clinico, vale a dire dopo che c'è stato un processo per valutare la pericolosità sociale di un soggetto, oppure di tipo investigativo e quindi prima che una persona venga scoperta, cioè nei casi dove non si sa chi è il colpevole, quindi per dare delle indicazioni o di tipo statistico, di tipo logico, per ridurre un po' la rosa dei sospetti. Quindi in realtà il criminologo sulla sua figura classica non ha un rapporto, una relazione storica con i periti. Ma secondo te in alcune fasi delle indagini, in alcuni casi particolari invece dovrebbe in qualche modo collaborare? Ma a mio avviso la funzione del criminologo è utile nel momento in cui ci sono casi dove veramente gli investigatori hanno delle difficoltà a orientarsi proprio nella fase iniziale. Quindi può in qualche modo dare delle indicazioni di aiuto iniziale. Quando si va più avanti, visto che il criminologo si è di chiaramente preparazione psicologica, ovviamente va a mettere le mani, come si suol dire, sulla psicologia del sospetto. È chiaro che se già c'è qualcuno indagato, in Italia è vietato fare delle valutazioni psicologiche quando già è iniziata un'indagine, quindi a quel punto non ha motivo di lavorare. Ultima domanda. È utile che lavori in team, per esempio con uno psichiatra, in una fase di perizia? Quello sicuramente sì, soprattutto nel momento in cui uno psicologo che per esempio ha competenza sulla psicodiagnostica, sui test psicologici, può lavorare con uno psichiatra. Ma infatti molto spesso ci sono questi team di lavoro, però parliamo di periti, non di criminologia. Quindi parliamo di periti di preparazione psichiatrica o psicologica che lavorano insieme, questo già avviene. Il Consiglio Nazionale del Notariato, insieme a 12 associazioni dei consumatori, ha presentato una guida sul complesso tema delle successioni. Questa per aiutare il cittadino a disporre del proprio patrimonio secondo regole previste dalla legge. A questo proposito, Laura Muzzi ha intervistato il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Giancarlo Laurini. Per orientarsi nel complesso tema delle successioni, da oggi c'è uno strumento in più. È stata presentata questa mattina infatti successioni tutelate, le regole per un sicuro trasferimento dei beni. La guida realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme ai consumatori, disponibile per i cittadini gratuitamente anche sul web per iPhone o iPad. Il Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 12 associazioni per trattare il tema della successione. Come è nata questa che potremmo definire quasi una task force e che scenario avete potuto tracciare delle successioni in Italia? Ma questa guida alle successioni tutelate, come è titolato la guida stessa, si inserisce in questo programma forte, lei ha definito di una task force, che va incontro in maniera forte alle esigenze di conoscenza, di informazione dei cittadini, i quali prima ancora di rivolgersi ai notai, ai professionisti, per affidare loro o chiedere loro il consiglio sui loro problemi, ebbene siano informati per quanto possibile con chiarezza, con precisione, sugli aspetti del problema che devono affrontare. In questa linea abbiamo trovato una sinergia straordinaria con le organizzazioni dei consumatori, abbiamo incontri e sinergie continue, perché insieme noi riteniamo di poter dare un grosso servizio ai cittadini. I dati attivi alle successioni sono questi, credo che quel dato più interessante sia il fatto che in linea di massima le successioni in misura superiore all'80%, mi pare più o meno l'84%, sono successioni legittime, cioè sono successioni che si aprono senza che il decuius, la persona che è imbancata, abbia fatto testamento. È interessante chiedersi perché questo avvenga, da una parte perché non c'è una sufficiente attenzione alla utilità di dare delle disposizioni dopo la morte in modo tale da sistemare già meglio in partenza i problemi patrimoniali tra i figli o tra i propri eredi. Ed è anche interessante notare come l'abitudine a fare testamento sia più diffusa nelle regioni del sud, centro, sud e isole rispetto al nord, questo è un fatto importante. Poi io dico sempre, e non certo per un vantaggio per i notai, che fare testamento porta bene, però forse qualcuno per scaramanzia non lo fa. La Corte di Cassazione ha stabilito un limite alle fotografie che riproducono sequenze drammatiche e troppo cruente perché non rientrerebbero nel naturale esercizio del diritto di critica. Ce ne parla nel suo servizio Milena Manicone. Il diritto di cronaca non può giustificare la morbosità nel ritrarre immagini cruente, pertanto devono essere assolutamente banditi gli scatti che riproducono delle sequenze drammatiche come quelle di un cadavere martoriato. E' questo in sintesi quanto ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 17215 del 2011. Per i giudici di Piazza Cavour questo tipo di immagini rientrano nel trattamento illecito dei dati personali e pertanto si rischia una condanna penale. Inoltre hanno ricordato gli armellini il danno morale che ne deriva si può ripercuotere anche su terzi, oltre che sulla persona fotografata. La Suprema Corte si espressa in merito alle foto cruente a proposito del caso della giovane figlia di un pregiudicato che venne brutalmente ferita alla testa da un colpo di arma da fuoco. Il trasporto in ospedale della ragazza venne immortalato con due vizie di particolari dagli scatti di un fotografo, poi pubblicati su un quotidiano sardo. Le fotografie drammatiche sono costate al reporter una condanna a due mesi e venti giorni di carcere, oltre al risarcimento danni in favore dei familiari della vittima. La Cassazione ha respinto il ricorso del reporter che ha tentato di giustificare il suo lavoro affermando di aver esercitato in maniera legittima il diritto di cronaca. In quanto, dal suo punto di vista, le immagini che aveva scattato rappresentavano un elemento primario ineliminabile ed essenziale alla comunicazione del fatto. I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo numero 196 del 2003. Nel caso specifico risulta del tutto evidente il danno arrecato alla giovane vittima che meritava di vivere gli ultimi istanti della sua vita al riparo dalla morbosa curiosità di terzi. Inoltre va considerato anche l'ulteriore danno arrecato ai suoi familiari che hanno subito anche il dolore di vedere il corpo martoriato della figlia pubblicamente esposto. Da Piazza Cavura hanno precisato che il sacrificio della riservatezza nell'ambito del diritto di cronaca può essere giustificato soltanto nell'ambito dell'essenzialità del diritto, dovere e di informazione. Un'essenzialità che in questo caso non sussisteva. E restiamo in corte di Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che è legittimo il ritiro della patente nei casi in cui si sosti con la macchina accesa in stato di ebrezza. A sollevare il caso era stato un cittadino di Bolzano a cui era stata sequestrata l'auto. Sentiamo i particolari nel servizio di Giovanni Pizzocolo. Un ulteriore giro di vite per chi si mette al volante in stato di ebrezza. Secondo la sentenza 188 2011 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione presieduta dal magistrato Vincenzo Romis è reato non solo guidare sotto gli effetti dell'alcol ma anche posteggiare con la macchina accesa dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Il caso era stato sollevato da un cittadino di Bolzano dopo che il 14 luglio 2010 gli era stata sequestrata la macchina una Porsche Cayman dove era stato trovato seduto al posto di guida con il motore e le luci abbaglianti accese in procinto di fare manovra. Il tutto naturalmente in evidente stato di ebrezza. La Cassazione ha dato dunque ragione al Tribunale del Riesame di Bolzano che con l'ordinanza del 28 luglio 2010 aveva confermato il provvedimento del GIP applicando al caso quanto previsto dall'articolo 186 del Codice della Strada che prevede il ritiro dalla patente e la confisca del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro. Nella sentenza di fatti si legge che il concetto di circolazione del veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alle fasi della sosta. Inoltre per combinare una misura cautelare non è necessario esaminare la fondatezza dell'accusa ma è sufficiente che il comportamento tenuto integri astrettamente una fattispecie di reato e sedersi al posto di guida in evidenti condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche nell'atto di muovere il veicolo con le cinture allacciate e gli anabaianti accesi rappresenta già una condotta idonea a integrare il reato. Dunque, d'ora in avanti, non basterà più evitare di guidare dopo aver bevuto ma bisognerà stare attenti anche solo a mettersi al volante per fare manovra a un amico o alla fidanzata. La sentenza comunque appare più che mai motivata pensando anche al fatto che l'alcol è causa del 40% delle morti al volante per più di 50.000 morti l'anno. Sempre più giovani e adolescenti bevono alcolici una vera emergenza sociale per il Codacons di Catania che ha inviato una diffida al Ministro della Salute e dello Sviluppo Economico per apporre le etichette sui prodotti alcolici così come quelle in vigore per i pacchetti di sigarette. Ce ne parla nel suo servizio Laura Di Stefano. Pochi giorni fa sono stati pubblicati i dati Istat secondo cui 9 milioni di italiani, il 16.1% del totale hanno comportamenti a rischio nel consumo di alcol mentre il 13.6% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni 392.000 persone già beve alcolici. Questo scenario non lascia indifferente il Codacons di Catania che lancia una proposta al Governo nazionale. Per favorire un consumo sano e responsabile degli alcolici secondo l'Associazione dei Consumatori sarebbe utile apporre sulle bottiglie etichette simili a quelle in vigore sui pacchetti di sigarette. Il Codacons di Catania ha già inviato una diffida al Ministero della Salute e a quello dello Sviluppo Economico La nota, firmata dal Segretario nazionale Francesco Tanasi illustra motivi e obiettivi della proposta etichette su bottiglie di birra, vino e alcolici contenenti avvertenze possono dare informazioni utilissime ai consumatori circa la pericolosità dell'alcol e gli effetti negativi per la salute. In un momento in cui gli adolescenti purtroppo sono i primi consumatori di alcolici appare indispensabile e improrogabile questa etichettatura proprio perché i danni da alcol sono scientificamente provati ormai da decenni ed è inverosimile che in uno stato civile non vengano informati soggetti quali gli adolescenti ovviamente non i primi fruitori secondo la legge degli alcolici perché come è noto gli stessi non possono bere vi sono diverse disposizioni penali per chi somministra agli adolescenti sostanze alcoliche ma sicuramente fruitori di queste sostanze e che devono essere informati.